Bello e bentornati su RealNapoliFootball ragazzi, stiamo andando bene, abbiamo vinto una grande partita soffertissima contro la Roma 2-0 e adesso stiamo a cercare subito il prossimo avversario, l'avversario di questa puntata ragazzi, come sempre se vi fa piacere lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e soprattutto commentate a fine video per farmi sapere che ne pensate della partita appena vista detto ciò attendiamo che il sistema ci trovi l'avversario di questa puntata, ripeto una divisione 3 che mi sta dando delle soddisfazioni per un momento, stiamo giocando bene, abbiamo vinto parecchie partite, speriamo di continuare così, sarebbe interessante e simpatico scalare la classifica sto incontrando giocatori anche abbastanza forti, che fortunatamente alcuni sono riusciti anche a batterli, vediamo cosa succederà in questa puntata, perché andremo ad affrontare il Bari noi vogliamo un grande Bari, interessante, il Bari, giocatore sempre nella top 30.000, che comunque è più alto di me al momento un Bari di top 30.000, vedo un figo, toni figo, vabbè, vedo un figo, si mettono un fire, ci piace, tutti bene, tutti bene, in panchina, a facci e stugaz, perfetto dopo, se serve o se non serve faremo qualcosa, lui è una serie di fenomeni come sempre, va bene così si può partire subito, attendiamo il nostro amico di Bari, che cosa fa? e andiamo a match, stavo dicendo, sono troppo forti in matematica, invece mi ricordo quel 4 sul registro elettronico faccio il rovescio di me, esatto e vabbè, ma il 4 si può recuperare, si può recuperare, non ti preoccupare, non ti preoccupare si parte Napoli-Bari Napoli-Bari, derby societario Napoli-Bari Si parte, Osiman muove la prima palla per Lobotka, che allarga verso Mario Rui, solita giocata, Mario Rui va da Kovara-Skelea, Kovara-Skelea vada però loro palla Attenzione, Angis torna dietro per evitare problemi da Meret che rilancia lungo verso Angis sempre, niente da fare, perdiamo palla arriva Giannino Di Lorenzo Palla però sul tempo Prova a ripartire subito Empeee La muove veloce, ma Giannino Di Lorenzo poi vede Politano completamente libero Scende Matteo Politano, 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 Politano Politano ancora Crossi-Mento, Ciosi-Mena Non riesce a colpire Coras-Skelea, niente Angissà, palla fuori Arriva Lobotka che appoggia Di Lorenzo Che vada, Politano Che si ferma Crossi-Menzu Niente da fare, la palla non passa Attenzione ad Occhene Mario Rui, figo Se ne va Si fa aiutare da James Ancora Nathan su Figo Non riesce a recuperare palla Arriva Rui Bello, bello Attenzione Kovara-Skelea Prova ad andare dentro da Osimena Gran palla di Kovara Oh sì Fa anticipare di poco Dal difensore Cech rilancia Pensi sia Cech Perché è uno caschetto Di Lorenzo Errore verso Matteo Politano Racamani Erobra palla E vada Ancora Politano Palla fuori Erroraccio E qui Neymar Arrivano al tiro Ed è 1-0 Bari Abbiamo preso Una ripartenza 1-0 Bari Con Bellinga Lobotka Palla per Mario Rui Scende Rui Palla verso Kovara-Skelea Kovara-Skelea Scende Kovara Dentro Verso Zielinski Che prova a far andare Angissà Niente da fare Attenzione Zielinski Prova a recuperare Niente da fare Zielinski Rischiamo Rischiamo di scoprirci tanto Lobotka però Prova ad uscire Non ci riesce Neymar Nathan Calcio d'angolo per loro Calcio d'angolo per loro Figo Cross in mezzo Di Lorenzo Palla per Politano Palla per Politano Qui sbaglio io Qua sbaglio io Dentro Palla Mamma mia Figo No Neymar Sbagliato io In uscita Sto sbagliando io Osimel Lobotka Continuiamo Dobbiamo svegliarci un po' Nathan Palla verso Mario Rui Mario Rui Dentro Errore ancora Io sbaglio Ancora io Mamma mia Riparte ancora il Bari Stiamo giocando davvero male In questa partita Arriva Pempe Fuori gioco Eh Pronto Sto giocando male Meret Rilancia lungo Attenzione Osimel Prova a colpire Arriva Di Lorenzo Palla per Lobotka Dentro per Anghissà Proviamo a svegliarci Anghissà Fermato senza fallo Però recupera palla Anghissà Attenzione Anghissà Palla dentro Da Matteo Politano Politano si gira Entra in aria Politano Fermato Matteo Politano Ancora staccare la palla E recuperarla Di Lorenzo Perde palla Ma perché è andato a Lobotka Era andato lì Vabbè 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 Zedischi Anghissà Palla per Zedischi Errore di zero Nel controllo Molto male Fino ad ora Zedischi Recupera palla Osimel Vada Kvaraschelia Versosi Sbagliamo Tutte le scelte Lobotka Ricupera palla Attenzione Lobotka Dentro per Vittor Osimel Che può tirare E accorcia Vittor Imbucata Incredibile Due obotka E ha detto Non perdona Lo so Aldo Motura Non c'è bisogno A me lo dice Lo so che scherzi Pazzesca Imbucata di Lobo Pazzesca Imbucata di Lobo Accorciamo Le distanze Questa cosa Ci fa il bene Al morale Ragazzi Attenzione Nathan Anghissà Bravissima Anghissà E Mario Lui Prova a far ripartire Kvaraschelia Dentro Però si manga Un po' alla di Kvaraschelia Però si Si giro Si no Ha fatto quello stop Che ha perso 25 anni e mezzo Raga Io l'ho andato in porta Ancora Mario Lui Ancora verso Kvaraschelia E Mario Lui Verso Anghissà Troppo ambiziosa Questa giocata Di Mario Lui Attenzione Anghissà Arrivo Simen Su check Mamma mia Quanto hanno rischiato Ragazzi Mamma mia Quanto hanno rischiato Arrivata la palla Politano Politano Dentro per Anghissà Anghissà Grasso in mezzo Kvaraschelia Non ci credo Porca puttana È stato un peccato qua io Un peccato veramente incredibile Check Rilancia a lungo Anghissà Provano ad andare a chiudere Sui cordi Alba Attenzione Politano Prende palla Politano Dentro per Osi Perché Perché Per Osi Perché Per Osi Attenzione Di Lorenzo Ancora un regolo Palla incredibile Va da Politano Che si gira E vede Osimene Che appoggia Zedischi Ha provato a ritardare la dosi Però si era fermato Peccato Ragazzi Peccato Bellingham Palla verso Mario Due Che va dietro Da James Attenzione Palla ancora per Bellingham Attacca il Bari Ah Brutta Posta Takmani Crossi in mezzo Lì Arriva Mario Lui No Anghissà Perché l'hai stoppata lì Fallo Lì Zambo Anghissà Peccato Sono cretino Che aveva sbagliato Tu accanto Ah Non lo so Perché giustamente Tu giochi da Da mobile Giusto Attenzione figo Attenzione figo Attenzione figo Prova il passaggio Mario Rimette fuori Chiudiamo il primo tempo 2-1 per il Bari Ragazzi Ci siamo rivesi Verso la fine È un Bari molto forte Molto molto forte Andiamo a vedere Nel secondo tempo Cosa succede Proviamo a riprenderci Frati Io la verità Non lo so Non lo so Perché giustamente Non l'ho mai fatto Bisogna vedere Che soluzioni ci sono Se ci sono Ma sicuramente Che si può fare Secondo me basta Collegare l'account Tse Scusami L'account di football L'account Konami Ecco Attenzione Intanto abbiamo ripreso Con Anghissa Prova il coppare palla Non ci riesce Giannino Di Lorenzo Prova a dare una mano Sotto in P Non ci riesce È fuori gioco Aldo non è possibile Perfetto Salvio ha Ha risolto tutti i problemi Intanto Di Lorenzo Rilancia lungo Per tenere anche palla lontana Verso Simen Arriva Lobotka Poggia per Zieliski Allarga Per Kvara Schelia Dribling di Kvara Prova ad andare dentro Davittor Osimen Bellissima palla Osimen Poggia dietro per Zieliski Zieliski Dribling di Zieliski Che prova a tirare La parata di Cech Poi Osimen Dietro per Kvara Schelia Peccato qui Ci aveva provato Zielo Attenzione Mario Lui su figo Deve tenere lui Su figo Riesce a tenerlo un po' E dagli molto fastidio Arriva Zieliski Bellingham Usciamo un po' male Arriva Nathan E poi appoggia Zieliski Che va da Kvara Schelia Fallo laterale Vabbè figurati Mi spiace più per Aldo Attenzione Mario lui Attenzione Maru dove è passato Rachmani Mamma mia Rachmani Appoggia per Politano Palla per Osimen Che si gira Allarga dall'altro lato Verso Kvara Schelia L'idea c'era Ma la palla era Debole Di Lorenzo Palla per Politano Appoggia per Anghissa Dentro per Politano Ancora Che prova a ritardarla Da Anghissa Niente da fare Attenzione Palla Che prova a ripartire il Bari Arriva Mario lui a dare una mano Non ci riesce Attenzione Neymar Tempe Di Lorenzo Attenzione Di Lorenzo Grande copropalla Di Di Lorenzo Che va da Politano Si ferma Politano Va dentro Da Zieliski Dentro per Osimen Che appoggia Da Anghissa Niente da fare La palla resta lì Attenzione Anghissa Dentro per Coraschelia Non riesce a tirare Non ci credo Politano La consegna al Bari Incredibile ragazzi Lobotka Prova a recuperare palla Non ci riesce Attenzione Lobo Ancora palla Sbagliata di Lobotka Qui Un po' sfortunati pure Figo Arriva Mario Rui Che poi prova Ad allargare La palla Non arriva A Coraschelia Ancora Mario Rui Niente da fare Nathan In chiusura Su Figo Ancora Figo Tiene palla Però Zieliski Crossi mezzo Rachmani La mette In fuori E poi Anghissa Va da Politano Che cambia A gioco Questa volta Per dare un po' Di tranquillità Verso Coraschelia Che scende Coraschelia Attenzione Coraschelia Coraschelia Drivling Di Coraschelia L'ha fermato Da James Molto molto bene James Attenzione Mario Rui Figo Ce la fa A superare tutti Mario Rui Attenzione Arriva Rachmani Grande Che prova Palla di Rachmani Che adesso Prova a scendere Rachmani Che prova A cambiare Tutto Verso Coraschelia Che mette giù Coraschelia Che tira Forse esagerato qua Allora Con Lindstrom Allora Ho tentato il tutto per tutto Ma si Ma si ragazzi Ma si Vai con Lindstrom Lindstrom Trecquartista Lobo Anghissa Che ha monito Ed è stanco Monito è stanco Anghissa Caciusto Per forza Lo mettiamo mediano Politano Lo facciamo riposare un po' Dentro Giacomo Raspatori Seconda punta E va bene così Sì 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 Va bene così Va bene così ragazzi Facciamo un po' di cambi Tentiamo il tutto per tutto Per andarlo a pareggiare Un po' di freschezza Soprattutto a centrocampo Ragazzi Praticamente A parte Lobo Cambiamo Due terzi di centrocampo Zerischi che è stanchissimo Attenzione Dentro Lindstrom di testa Con la ver Coraschelia Che non riesce a tenere palla James Si menna Non si ha l'attenzione Per attaccare il bari Che va dentro Mario lui Deve chiedere su James Rui Non ci riesce James passa Cross e mezzo Meret Fa un miracolo E ci tiene in partita Alex Meret Ci tiene in partita Alex Meret Cross e mezzo Attenzione Rui Caciuste Palla fuori Coraschelia Ricopriamo palla con Lindstrom Che prova a far correre Giacomo Raspadori 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 dentro Però si menna Palla lunga Perché non è andato Da Lindstrom Ragazzi Perché Attenzione Rachmani Torniamo Pempe Che tira Che tira Meret Rilancia Verso Meret Verso Si menna Palla per Giacomino Raspadori Che allunga Addilorenzo Dentro per Vittorio Sime Fermato dalla difesa Van Dijk Rilancia Lungo Nathan Prova a mettere fuori Fra Nathan Dentro per Cavara Schelia Cavara Schelia Rientro Rientra Cavara Dentro per Lindstrom Raspadori 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 Niente da fare Arriva Raspadori Lobotka Dentro per Di Lorenzo Che cassa Cavara Schelia La palla resta lì Incredibile Incredibile Non riusciamo praticamente A spingerla dentro Pempe Se ne va su Rachmani Nathan Meretta Rilancia Lungo Forse Meriteremmo Il pareggio Ragazzi Ma Non riusciamo A spingere La palla Dentro Adesso Ripartono Loro Rachmani Lindstrom Palla per Caciuste Allarga Per Lobotka Troppa Fretta Qui Attenzione Ci possiamo Provare Attenzione Caciuste 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 Nathan Allarga Per Caciuste Scende Caciuste Un minuto Caciuste Praticamente Ultima occasione Caciuste Si fa bruciare Finisce qui Ragazzi Perdiamo 2 a 1 Col Bari Palla Che non è Voluto Entrare Va bene Così Ci vediamo Alla prossima Puntata Risultato Positivo Eccoci qua Luca Par